Non ho molto tempo e vado di fretta. Hai dei pacchi per me? Che ti lacrugura? Che ti lacrugura? Stai faggmela scogliandola? I detti non si muovono. Il mio denti... Guarda in un posto lontano. E anche avventuroso. Vediamo la ru... Good job! Bisognava attraversare il paese. Fatto! Era necessario oltrepassare la montagna. Fatto! Quindi adesso dove andiamo?